La mia storia è scuola! I can't see! Life is... Now! Vodafone! Come laura! Ci pensiamo noi! Con Luca e Paolo. C'erano delle brave in giro e carine, capito? Perché? Perché la cozza. E Cristina. Per trovare la risposta a questa domanda, chiediamo aiuto ai massimi esperti del settore. Yahoo! Noi ci abbiamo provato. Stiamo per parlare di un argomento un po' imbarazzante. È presente il grande esperto. Le Iene Show. Martedì alle 21. In diretta su Italia 1. Missione compiuta! I sughi di casa Bertolli. Pomodoro fresco al 100%. Olive taggiasche. E capperi di pantelleria. Per avere successo, ci vogliono gli ingredienti giusti. Bertolli assaggia che profumo. Prova Croccarelle Santa Lucia. Sotto la panatura croccante. Il cuore caldo della mozzarella lega tutti. E da oggi una gustosa novità. Le Croccarelle pizza. Santa Lucia. Il buon umore in casa mia. Croccarelle. Prodotto dell'anno 2006. Ehi, mi riconosci? Sono Magnum P.I. Da oggi puoi finalmente rivivere tutte le mie spettacolari avventure in DVD. Cosa aspetti? Corri in edicola e colleziona tutti gli episodi. Magnum P.I. In edicola alla prima uscita con il fascicolo, il primo DVD e il cofanetto in regalo. Da Edizioni Master. Signore e signori, ecco a voi la nuova Renault Megane. Osservate l'innovativo design dell'anteriore. No, no, no. Non il posteriore. Nuovo 2000 TSI da 150 cavalli. Un motore con prestazioni elevate. Non così elevate. Sabato e domenica in omaggio agli optional presenti sulle New Megane concessionaria. Noi cinesi sfruttiamo le vettute le erbe anche con toltozza e la uccedina. Ma blu c'è come fuoco. E per questo abbiamo inventato le caramelle benediche. O chi le inventate? Ricola. Caramelle ricola senza zucchero con 13 erbe naturali. Ricca sollievo a gole e faringhe. Ricola. Ricola. La vita è piena di sorprese. La tariffa conti fatti di Enel Distribuzione no. Anzi, se la scegli puoi sapere in anticipo quanto spendi in ogni bolletta. Se hai il contatore elettronico, chiama il numero verde e informati sulle nuove tariffe. Dare energia a un paese significa anche questo. Sguardo troppo intenso per le timide. Nuovo XXL Intense da Maybelline New York. In due step di microfibra. Lunghezza esagerata. Dieci volte più volume. Ciglia troppo intense. Esagera. Nuovo XXL Intense. Maybelline New York. Vedrai il mondo come se fosse la prima volta. Geo. Una nuova immagine del mondo. In edicolo ogni mese. più C1 più parcheggio più parcheggio meno stress meno stress più sorrisi più sorrisi più amore Nuova Citroen C1 L'unica city car con navigatore multimediale e lettore MP3 integrato di serie Da 8.600 euro scopritela anche domenica 19 Campania dove l'accoglienza è un'arte Io mi domando perché dopo una giornatina così ho ancora voglia di farvi una torta Sarà perché adesso ci sono le torte che è versa in forna cameo le uniche con latte, burro e uova fresche Sarà perché è un profumo che ci mette tutti di buon umore Sarà perché piace un sacco anche a me Nuove torte versa in forna cameo Mmm, questo l'ho già visto Anch'io nei miei incubi Ma lei chi è, scusi? Piero Groff Ma chi? Capione olimpico di C? Proprio lui Ma che ci fa qua? Mi occupo dei volontari olimpici sono qua di 20.000 persone E sono brave? Bravissime Tutte la medaglia d'oro E adesso Vabbè che se l'ha vinta lei forse ce la faccio anch'io Anche San Paolo partecipa a Torino 2006 con lo stesso entusiasmo di Piero A quanti anni le ha vinte le Olimpiadi? 22 Sembra passato un secolo Ma guardi che è passato un secolo Ma forse anche due San Paolo Meno banca Più entusiasmo Panorama presenta Spazio Ultima frontiera Questi sono i viaggi dell'astronava Enterprise Qui è il capitano Kierke che vi parla E con l'aiuto del dottor Spock stiamo per iniziare un viaggio intergalattico su mondi dove nessun umano è mai giunto prima Ma adesso attenzione Siete pronti per il teletrasporto? Energia Star Trek In esclusiva con Panorama i primi due DVD E per le prime visioni di Panorama tutto può succedere Con Jack Nicholson Diane Keaton e Keanu Reeves Un film appassionante ironico indimenticabile Solo con Panorama Cerchi stabilità Serie limitata a Fiat Freeride con ESP di serie per una tenuta perfetta in tutte le condizioni Punto Panda Idea Freeride Scoprile il 18 e il 19 febbraio Lerdammer Non la sedurrai più Con la tua dolcezza e la tua morbidezza Basta Ma ho stregato Lerdammer Impossibile resistere Vedo che Lerdammer resiste anche a fette L'Italia Uno 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 Tu chi sei? Chiunque tu vuoi che io sia Lascia stare Marissa Hai divorziato anche tu? No Sono sposata Ho un regalo per te Vuoi ricattare? Guarda Dimmi quanto vale secondo te Ragazzi Ci hanno chiusi dentro In prima visione Italia Uno Oh sì Lunedì alle 21 Divertimento assicurato È un incrocio tra i gunnis e trappola di cristallo È un incrocio tra i gunni